Sapete quanto avreste guadagnato se 10 anni fa avreste deciso di investire 1000€ in azioni Apple? In questo video andremo a fare quello che viene chiamato backtesting, cioè andremo ad analizzare l'andamento passato del titolo Apple negli ultimi 10 anni e vedremo come sarebbe andato il nostro investimento se avessimo davvero deciso di puntare su Apple 10 anni fa. Prima però se questo nuovo format vi piace vi chiedo subito di lasciare un like così da farmi sapere che volete altri video di questo genere. E magari fatemi anche sapere nei commenti su quali altri titoli vorreste un'analisi come questa. Catapultiamoci allora di qualche anno indietro e proviamo a vedere come sono andate le cose per l'azienda di Cupertino. Tenendo però bene a mente che l'andamento passato del titolo non significa che questo seguirà lo stesso andamento anche in futuro. Il nostro backtesting inizia il 1 ottobre del 2012, cioè poco meno di un anno dopo la morte del fondatore di Apple, Steve Jobs. Il titolo Apple a quei tempi si scambiava a prezzi abbastanza alti, ma normalizzando i prezzi di allora sulla base dei due stock split che sono stati fatti in seguito, il prezzo corrispondente era quel giorno di 21 dollari e 30 centesimi, che col cambio d'allora a meno di 78 centesimi di euro per dollaro sarebbero stati per noi europei 18 euro e 27 centesimi per ogni azione Apple. Già potete confrontarlo col prezzo attuale e fare qualche riflessione. Investendo 1000 euro quel giorno saremmo quindi riusciti ad acquistare 54 azioni Apple, tenendo anche da parte 13 euro e 54 centesimi che non sarebbero stati sufficienti ad acquistare la 55esima. Il 14 febbreo del 2013, a San Valentino, riceviamo l'ultima quota dei dividendi relativi all'anno 2012, la seconda per noi che avevamo iniziato ad investire ad ottobre dopo quella che già avremmo dovuto ricevere a novembre dell'anno prima. Ma in quel momento il nostro investimento è tutt'altro che rose e fiori. A fronte di 7 euro e 65 centesimi di dividendi ricevuti, infatti, il costo delle azioni Apple è crollato a 16 dollari e 66, che col cambio poco sotto i 75 centesimi per dollaro di quel periodo corrispondono a 12 euro e 86 per azione. Siamo quindi in perdita di ben 305 euro e 79 centesimi e forse in situazioni come questa molti si convincerebbero di aver fatto un grosso errore ad investire in Apple e deciderebbero quindi di limitare le perdite e vendere tutto per salvare il salvabile. E invece l'errore sarebbe proprio questo e lo scopriremo più avanti. Perché sebbene l'inizio sia stato terribile con oltre il 30% di perdita dal nostro investimento iniziale, negli investimenti finché non si vende non esistono né guadagni né perdite e solo il tempo può dirci il vero valore di ciò che abbiamo acquistato. Quindi ipotizziamo di essere abbastanza tenaci da mantenere attivo il nostro investimento nonostante le potenziali perdite e arriviamo così al 1 ottobre 2013, cioè esattamente un anno dopo aver acquistato le nostre azioni e tiriamo un po' le somme. Apple costa 17 dollari e 43 per azione e il cambio è poco sotto i 74 centesimi di euro per dollaro. Abbiamo recuperato qualcosa da quel meno 30% di febbraio, ma purtroppo siamo ancora sotto di oltre 280 euro dal nostro investimento iniziale. Quindi le cose non sembrano proprio voler andare per il verso giusto, anche se qualcosa sta per cambiare. Prima di andare avanti con la nostra storia voglio però ricordarvi che oggi potete investire in azioni ed indici a partire anche da un solo euro attraverso la piattaforma di Trading212. E cosa più importante, potete creare il vostro piano di accumulo personalizzato con l'importo che volete e sui titoli che preferite. Se volete vedere come funziona nel dettaglio l'app di Trading212, vi lascio nelle schede il video tutorial che ho pubblicato sul mio canale qualche tempo fa. Inoltre iscrivendovi dal link che vi lascio in descrizione potete subito ottenere un'azione in regalo del valore compreso tra i 5 e i 100 euro. Eravamo quindi rimasti ad ottobre 2013 con una perdita di oltre 280 euro. Eppure siamo vicini ad un punto di svolta. Infatti nel 2014 il titolo torna a salire e il primo ottobre 2014, due anni esatti dopo il nostro investimento iniziale, il titolo Apple che nel frattempo a giugno aveva fatto uno stock split di 7 a 1 si scambia a 24 dollari e 80 centesimi. E con il cambio a 0,79 e considerando i dividendi ricevuti nel frattempo, porta il nostro investimento iniziale a valere 1099 euro e 30 centesimi. Quindi quasi 100 euro in più di ciò che abbiamo investito e piccolo spoiler, da questo momento in poi non saremo mai più in negativo, ma inizieremo finalmente a vedere i frutti del nostro investimento iniziale. Pensate che solo un anno prima, in preda al panico, avremmo potuto vendere tutto e lasciar perdere. Infatti la cosa più importante quando si parla di investimenti è comprendere il valore del tempo. Un titolo può salire o scendere nel breve periodo, ma se l'azienda sottostante è solida, nel tempo il suo valore verrà fuori e i movimenti giornalieri risulteranno nient'altro che oscillazioni superficiali. Facciamo ora un salto di tre anni in avanti e arriviamo al primo ottobre del 2017, o per essere precisi, visto che il primo ottobre era domenica e le borse erano chiuse, al 2 ottobre di quell'anno. Il cambio euro-dollaro è salito a favore del dollaro, che ora vale oltre 85 centesimi di euro, e nel frattempo il valore del titolo Apple è anch'esso salito a 38 dollari e 45 centesimi, che quindi corrispondono per gli europei a 32 euro e 76. Le nostre 54 azioni valgono ora in totale 1769 euro e un centesimo, e considerando i dividendi ricevuti in questi cinque anni, siamo ora in positivo di 882,94 euro rispetto al nostro investimento iniziale. Abbiamo quindi guadagnato oltre l'88% in cinque anni. A questo punto potremo accontentarci e decidere di vendere le nostre azioni per ottenere il profitto guadagnato. Ma in realtà, come vedremo tra poco, i prossimi cinque anni ci riserveranno delle piacevoli sorprese. Prima però di vedere cosa succede dal 2017 ad oggi, vi ricordo che se non volete perdervi altri contenuti come questo, potete iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanella per ricevere una notifica all'uscita di ogni nuovo video. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video perché a voi non costa nulla, ma per me fa davvero un'enorme differenza. Andiamo quindi a vedere dopo altri cinque anni e un secondo stock split di 4 a 1 avvenuto il 30 giugno del 2020, quanto vale oggi il nostro investimento di 1000 euro fatto dieci anni fa. Il 3 ottobre 2022 le azioni Apple hanno un prezzo sul mercato di 142 dollari e 45 centesimi, mentre il dollaro è schizzato alle stelle e il cambio è ora di oltre 1 euro per dollaro. Questo vuol dire che nonostante negli ultimi mesi tutto il mercato azionario, Apple compresa, abbia subito un fortissimo ribasso, il valore totale in euro delle nostre 54 azioni sarebbe ora addirittura volato a 7830 euro e 76 centesimi. E considerando anche gli oltre 300 euro di dividende ricevuti in questi dieci anni, abbiamo ora in totale guadagnato 7147 euro e 23 centesimi in più rispetto ai 1000 euro iniziali, cioè abbiamo guadagnato ben oltre il 700% del nostro investimento. Sicuramente possiamo dire che il rendimento che abbiamo ottenuto è di gran lunga soddisfacente, soprattutto se consideriamo che dopo qualche mese eravamo in perdita di oltre il 30%. Tuttavia avremmo potuto fare molto meglio senza investire un singolo euro in più se avessimo saputo come sfruttare l'interesse composto. Infatti all'inizio vi ho detto che dopo aver acquistato le nostre 54 azioni c'erano rimasti 13 euro e 54 centesimi in cash e chiaramente ogni trimestre per il corso di tutti i dieci anni il nostro cash è aumentato fino ad arrivare a 316 euro e 47 centesimi per effetto dei dividendi ricevuti dalle nostre azioni. E allora cosa sarebbe successo se avessimo deciso di reinvestire i dividendi comprando una nuova azione ogni volta che il cash accumulato superava il prezzo del mercato? Ebbene alla fine invece che 54 azioni ne avremmo in totale 62 per un valore totale di 8.990 euro e 87 centesimi il che vuol dire che considerando anche il cash rimanente avremmo guadagnato 8.131 euro in più rispetto al nostro investimento iniziale che in fin dei conti è sempre rimasto di soli 1.000 euro quindi rispetto al 714 per cento di profitto ottenuto senza comprare ulteriori azioni sfruttando l'interesse composto avremmo invece ottenuto un rendimento dell'813 per cento cioè quasi 1.000 euro in più dopo dieci anni senza investire un singolo euro in più e questo ancora una volta dimostra quanto sia potente l'interesse composto nel mondo degli investimenti. Come ultima variante ho voluto anche valutare cosa sarebbe successo se invece che investire soltanto 1.000 euro una tantum avessimo deciso di investire 1.000 euro ogni anno per dieci anni. L'investimento totale quindi al primo ottobre 2022 sarebbe stato di 10.000 euro ma avremmo a questo punto ben 378 azioni Apple che varrebbero 54.815 euro e 33 centesimi e considerando anche il cash restante a quella data il nostro guadagno netto sarebbe stato quindi di ben 45.367 euro e 7 centesimi che corrispondono quindi a poco più del 453 per cento di profitto. Chiaramente acquistando in maniera ricorsiva come possiamo notare aumenta il profitto netto in termini assoluti ma la percentuale diminuisce perché viene mitigata dai vari acquisti che facciamo nel tempo. Spero che questo video sia stato interessante noi ci vediamo al prossimo ma intanto se non l'avete ancora guardato ecco un altro video per voi.